C'è un nuovo virus in arrivo in Italia, appartiene alla famiglia dei coronavirus ed ha una parentela pericolosa e un familiare stretto della SARS, la Severe Acute Respiratory Syndrome, una sorta di polmonite grave che una decina di anni fa terrorizzò il mondo spingendolo verso la psicosi della pandemia, pericolo che per fortuna non si concretizzò mai. Come tutti i virus anche il nuovo è arrivato a una sigla NCOV ed ha fatto già le prime vittime, una trentina le persone contagiate, 18 sono morte, nessun caso in Italia. Il virus si è diffuso in Medio Oriente, negli Emirati Arabi, Arabia Saudita e Giordania, ma negli ultimi mesi è arrivato anche in Europa con alcuni casi in Gran Bretagna, Germania e Francia. Si tratta di persone che hanno viaggiato in Medio Oriente o che sono state a stretto contatto con i malati di NCOV. Del virus si sa ancora molto poco potrebbe provenire dei pepistrelli. Il contagio tra esseri umani avviene solo in caso di contatto stretto, come tra familiari. L'allarme coronavirus arriva direttamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dobbiamo preoccuparci? L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha lanciato un vero allarme, ma ha solo detto di innalzare il livello di attenzione. Quindi soprattutto nelle aree infette è bene identificare sia le persone che hanno questa malattia, sia identificare i probabili o presunti focolai animali. La trasmissione quando avviene avviene per contatto ravvicinato attraverso appunto l'emissione di saliva che contiene il virus. L'Istituto Superiore di Sanità si è immediatamente attivato mettendo appunto un test in grado di diagnosticare questa infezione e condivide il coordinamento insieme a laboratori regionali. Con la diffusione della suina furono prodotti in Italia milioni di vaccini che poi rimasero inutilizzate? Beh, in quel caso è vero. Molti dopo si lamentarono con l'OMS per aver lanciato un allarme secondo alcuni troppo elevato, ma in effetti l'OMS non fece altro che applicare il principio di precauzione. Non si poteva sapere quale sarebbe stato il corso nella gravità dell'epidemia e io credo fece bene a lanciare l'allarme e anche a cercare di accelerare lo sviluppo di vaccini efficaci. In questo momento in Cina c'è l'allarme aviaria, è la stessa di alcuni anni fa? No, si tratta di un virus leggermente diverso. Quello era un AH5N1, questa è una sigla diversa, AH7N9. A differenza di H5N1 non sembra dare una malattia manifesta nei polli, quindi è più difficile rintracciare la fonte di infezione, però fino ad ora sembra non trasmissibile da persona a persona e questo è il motivo per cui l'allarme è molto contenuto.